Salve, un caro saluto a tutti. Questa riflessione, dopo che ho avuto una conversazione con un ingegnere già stanco, il quale è arrivato a perdere la sua serenità e stabilità sentendosi sconfinato ed insultato una volta arrivato alla possibilità che la legge di gravità di Isaac Newton fosse sbagliata e che quella volta che gli scienziati del XIX secolo hanno formulato l'esistenza dell'etere, per esempio, erano nella verità. Da parte mia mi sono attivato quanto prima per indagare su questo argomento con il rischio di camminare su un terreno fangoso perché mi dichiaro profano nella materia. Mi sono imbattuto per la prima volta con sorpresa che mi ha provocato una risata. si sa che questo tal Newton passò un periodo del suo lavoro con l'astronomo e matematico tedesco Giovanni Keplero, che non è stato perseguitato per la sua scienza, bensì perché era un luterano. Nel momento in cui Keplero si è trovato in difficoltà economica ed aveva bisogno di un proprio telescopio, si scopre che il matematico gesuita Paul Golding ha incoraggiato un altro compagno gesuita di nome Nicola Succi per fornire a Keplero lo strumento necessario. Keplero, che aveva veramente gradito il regalo, dedicò il suo libro a gesuita Golding. Quando Keplero fu espulso dall'Università di Grazio a seguito di un decreto dell'imperatore austriaco, arrivarono i gesuiti Decker, Lank e Golding per intercedere in suo favore. C'erano molti gesuiti nell'Università di Ingolstadt, sembra che fossero un punto per gli illuminati, si presero la responsabilità della pubblicazione dell'almanaco di Keplero, visto che lo scienziato non era in grado di stamparlo. Newton diceva che gli oggetti sono spinti, non attratti dalla Terra e nemmeno lui sapeva perché. Newton fu nominato presidente dell'importante società massonica Royal Society nel 1703. Inoltre Newton è stato identificato anche come gran maestro del priorato di Sion nei documenti di Pierre Plantard. Per i gesuiti interessati nell'astronomia, l'eliocentrismo, vale a dire la Terra che gira attorno al Sole, è stato presentato dal matematico astronomo e religioso cattolico Niccolò Copernico. Nel secolo successivo Giovanni Keplero sviluppò questo modello per includere l'orbita ellittica. Il lavoro di Keplero si basava sull'osservazione del cielo attraverso il telescopio che fu presentato da Galileo Galilei. Il Papa Clemente VII aveva reagito in maniera favorevole al discorso della teoria di Copernico premiando questo lavoro con un raro manoscritto. Non esistono prove né indizi di come reagì il Papa Paolo III sulla rivoluzione della Terra, la rivoluzione attorno al Sole. In ogni caso, il suo consigliere di fiducia, Bartolomeo Spina di Pisa, cercò di condannare questa teoria. Casualmente cadde infermo e morì prima che il suo piano fosse portato a termine. Fu così che in questo modo nel 1600 non c'era alcuna posizione ufficiale cattolica sul sistema di Copernico e che in realtà non era ancora una eresia. Quando Giordano Bruno fu bruciato sulla pira come eretico, non si vedeva nessuna relazione nei suoi scritti che appoggiavano questa cosmologia di Copernico. E questo è dimostrato in modo molto evidente nella ricostruzione dell'accusa contro Giordano Bruno da parte di Finocchiaro. In un capitolo intitolato non c'è alcun martire da parte del Copernicanesimo Giordano Bruno. Andiamo avanti. Copernico era ben visto dai gesuiti. Tutto a posto, tranquilli, siamo in buone mani e soprattutto non c'è alcun sospetto che questo gesuita possa mentire. E Galileo Galilei ha fatto la sua carriera con la materia scientifica, tramite gesuiti, voleva diventare monaco e il suo padre cercò di tirarlo fuori da lì quando era già sacerdote gesuita, che è stato onorato a Roma, onorato dai gesuiti del collegio romano e ricevuto dal Papa Paolo V. È come dire, oggi dormo tranquillamente, siamo in mano dei gesuiti. Galileo diceva che la legge della natura è scritta dalla mano di Dio nel linguaggio della matematica. Dall'altra parte, Cristoforo Clavio, astronomo del XVI secolo, è stato un gesuita che ha inserito l'astronomia nei programmi di studio di questi gesuiti. Lui era il direttore, il direttore erudito dietro alla creazione del calendario gregoriano, e nella stessa maniera di altri astronomi, come Wildenberg. Clavio adottò il modello matematico di Copernico, però credeva che la cosmologia di Ptolomeo fosse corretta. Però non fa niente, tranquilli, se lo dicono i gesuiti. Nel 1592 Galileo si trasferì a Pisa, no, scusate, da Pisa a Padova. Al suo arrivo a Padova fu preso nelle grazie di un potente gruppo di aristocratici veneziani della nobiltà veneziana, richiesto da Giovanni Francesco Sagredo e Niccolò Contarini. Sì, lo stesso Contarini, lo stesso, quella della stessa famiglia che appoggiò la creazione dei gesuiti. I membri del circolo intimo di Paolo Sarpi, quel Paolo Sarpi che fu la causa della rottura della nobiltà veneziana, questo individuo introdusse Galileo nel suo giro, fino ad arrivare al punto di essere invitato dal ricco sagredo e rimanere nel suo palazzo costruito sulla cima delle rovine romane su una sponda del canale Brenta. Questa villa famosa ai suoi tempi come scenario di feste selvagge fu trasformata come seconda casa di Galileo. Paolo Sarpi inviò membri della sua cricca per controllare, guidare e vigilare il lavoro di Galileo, fino al punto da rendere pubbliche le invenzioni e le teorie sotto il nome di Galileo. Fra queste ultime va incluso il primo termometro moderno, che fu un'invenzione di Sagredo. La teoria delle Maree di Galileo, che fu sviluppata da Domini e data a Galileo come gran parte del suo lavoro della rinomata meccanica e del peso, che vennero forniti da Santorio Santorio e Filippo Salviati. È come dire che l'idea era di costruire l'immagine di Galileo come un eroe della nuova scienza. Quando arrivò il momento che gli agenti di Sarpi, di Paolo Sarpi, non furono in grado di fornire altre scoperte a Galileo, quello che avrebbe potuto reclamare come sua proprietà, iniziarono a lettegare uno con l'altro, frequentemente fino ad arrivare allo scopritore originale, il quale allora veniva attaccato come un plagiatore. Ad esempio, l'evento che è stato spesso segnalato come l'uscita di un'aggressione, l'assalto di Galileo, l'assalto di Galileo sull'aristotelismo è una notizia del 1604, dove aveva scoperto una nuova stella, in realtà una supernova. Un furto. Il problema era che questa stella era stata scoperta all'inizio della settimana dall'astronomo Simon Mario. Venendo a conoscenza di questa scoperta, Mario inviò il suo alunno, Baldassare Capra, a Padova. Questi informò della notizia della scoperta a Paolo Sarpi, il quale lo disse personalmente a Galileo e che lo proclamò come una sua scoperta. Più tardi, nel 1607, lo stesso Baldassare Capra è stato coinvolto in una rissa con Galileo, quando Capra reclamò l'invenzione della bussola come risultato della sua opera Oxus et Fabrica Siersini. Galileo accusò Capra di plagio e, per ordine del potente senato di Venezia, sotto il controllo di Giovanni Paolo Sarpi, li sottrassero tutti, bruciando i circa 1450 libri di Capra. Nel periodo in cui avvenne questa controversia fu proprio Paolo Sarpi che si trovò coinvolto personalmente nella disputa in nome del governo veneziano e, naturalmente, giocò a favore di Galileo. Simon Mario ha avuto una seconda collisione più seria con Galileo nel 1610, quando questo Mario si ritrovò ad essere il primo astronomo ad osservare la luna di Giove. Quando Galileo proclamò questa scoperta, come fosse la sua, Mario lo attaccò. Ma il gruppo di Sarpi, in una campagna massiccia contro Mario, lo accusò di plagio e, per tre secoli, tutti gli storici diedero il credito a Galileo per questa scoperta. Tuttavia, nel 1900, in una conferenza scientifica internazionale, dove si volle esaminare la controversia di Galileo e di Simon Mario, si determinò che Mario era stato accusato falsamente, arrivando alla conclusione che lui, Mario, è stato il vero scopritore della luna di Giove. La stessa tattica di accusa di plagio venne utilizzata un'altra volta nel 1612, quando il gesuita ed astronomo bavarese Christopher Schneider informò che aveva visto delle macchie sul sole, con l'utilizzo di un telescopio progettato da Giovanni Cheplero. E immediatamente Galileo annunciò che stava osservando le macchie solari già da un anno, per cui manteneva la priorità della scoperta. Un'affermazione molto sorprendente è il fatto che Galileo prima non aveva annunciato nulla di queste macchie solari. Per quanto riguarda il telescopio di Galileo, l'evidenza è travolgente e conclusiva, tanto che questo dispositivo non fu inventato da Galileo, bensì da un olandese nell'autunno del 1608. Infatti tre olandesi hanno reclamato questo con le autorità. Hans Lippershey, che aveva richiesto il brevetto di questo telescopio agli stati generali nel 1608. Jacob Matthews aveva richiesto lo stesso per il brevetto di uno strumento simile il 15 ottobre 1608. Zacharia Janssen non l'aveva richiesta, però affermò di aver inventato il telescopio prima di qualcun altro. E qualche anno più tardi, in un suo diario privato, scrisse al matematico olandese Isaac Beckmann, il quale informò che il figlio di Janssen gli aveva detto che suo padre aveva costruito un telescopio nel 1604 basandosi sul modello di lenti concave e convesse. L'evidenza che Galileo in realtà non avesse alcun metodo scientifico e che è stato completamente assorbito da parte di Paolo Sarpi, si può testimoniare in uno scritto adulatore dei suoi saluti e lodi a Galileo, come per esempio nessuno in Europa può dire, Galileo lo diceva, che nessuno in Europa si può dire senza esagerazione supera il maestro Paolo Sarpi che possiede la conoscenza della scienza e della matematica, lo ha detto Galileo. Oltre al fatto che è chiaro che la chiave per il controllo da parte di Venezia di Galileo è avvenuto attraverso il denaro è sicuro. Il suo trasloco da Pisa a Padova è stato il motivo della triplicazione del suo salario. Più tardi diventò il beneficiario dei favori di Sagredo e nel 1623, dopo che Galileo aveva lasciato Venezia, si trovò in difficili situazioni. Sarpi in persona si accordò affinché ricevesse una pensione da Venezia, una pensione permanente, mantenendolo così in questa catena finanziaria per tutta la sua vita. Nel decennio del 1630 il segretario di Sarpi, Fulgenzio Micanzio, pagò denaro extra per la redazione di ambedue i testi del dialogo sui sistemi del mondo e il discorso sulla nuova scienza. In seguito il discorso del 1630 venne rimosso in Italia da Micanzio, il quale si organizzò affinché fosse pubblicato in un altro luogo. In quel momento la commercializzazione del mito di Galileo era il culmine. All'apogeo gli saloni della promozione della nuova scienza dell'imperismo vennero promossi a Parigi, Roma, Paesi Bassi e in altre località. Nel 1611 Galileo andò a Roma per presentare le sue scoperte e fu ricevuto con grande successo. Mostrarò le sue osservazioni di Giove a Cristoforo Clavio, un gesuita del Collegio Romano ed astronomo più rispettato in Europa in quel momento, il quale confermò le osservazioni e parte delle sue tesi del movimento planetario di Galileo. La questione controversa è il titolo del documento che scrisse Galileo nell'aprile del 1615, delineando la posizione ufficiale della Chiesa. Segnalò che la teoria copernicana era perfettamente accettabile come ipotesi del lavoro, ma che non c'erano prove della rivoluzione della Terra attorno al Sole, pertanto si doveva procedere con circospezione nella spiegazione del passaggio delle scritture che sembrava dicessero il contrario. Galileo non aveva alcuna prova astronomica da offrire, in parte perché le sue osservazioni personali non si allineavano correttamente con la sua teoria. Al suo posto Galileo propose come prova una teoria errata e poco convincente che le maree erano le prove della rotazione della Terra, per poi negare concretamente che la trazione lunare ne fosse coinvolta. Nel 1616 la Chiesa gli ordinò di cessare e di desistere nella sua difesa pubblica della teoria non ancora dimostrata. In date più recenti del XX secolo, lasciando da parte tutto questo tema in relazione ai primi astronomi con i Gesuiti e la Chiesa Cattolica, diciamo per esempio che questo è stato un buon consiglio per Georg Lamet, un Gesuita che si è sempre mantenuto in disparte, ma che è il mentore della teoria del Big Bang. Possiamo dire inoltre che questo interesse del Vaticano e quello che sta attorno al mondo cattolico per l'astronomia si vede a riflesso molto bene nella costruzione del miglior telescopio al mondo, un telescopio del Vaticano che si trova in Tucson, in Arizona, a cui hanno dato il nome Lucifero, Lucifer, Lucifero. Dobbiamo tenere presente inoltre che la NASA, diciamo l'organizzazione più coinvolta in tutto il campo aerospaziale, è stata fondata da nazisti e ovviamente controllata da tutta questa elite che è in relazione col Vaticano. Pertanto mi chiedo in che mani siamo? Che interessi hanno i Gesuiti in Vaticano per puntare a controllare tutti gli aspetti che sono in relazione con lo spazio esterno? Che cosa cercano di nascondere? ci stanno imbrogliando? C'è qualcos'altro di importanza vitale che non vogliono che sappiamo? Perché sono coinvolti in tutte le teorie, tesi, ipotesi e in tutto ciò che si trova in relazione con quello che sta immediatamente attorno alla Terra. Dobbiamo, possiamo fidarci che non ci stanno mentendo? Bene, niente amico, questo era tutto per oggi, spero abbiate apprezzato questo video, ci vediamo presto, un saluto a tutti. Grazie a tutti!